Allora Bata, abbiamo ottenuto una vittoria importante e soprattutto i tre punti nonostante la bolla di Champions League che ci ha causato una perdita di energie mentali e fisiche. Cosa ne pensi della prestazione della squadra in generale? Sì, un'altra vittoria, altri tre punti, un campo dove in passato abbiamo sofferto tanto, bellissima vittoria 3-0 nonostante il secondo set dove eravamo 4-5 punti sotto Pado, ma ecco, la cosa importante è che portiamo tre punti a casa e niente, adesso pensiamo subito alla prossima, sabato c'è Verona, una bellissima partita e non vedo l'ora di tornare a Palabarto. A proposito di Verona, è una squadra molto temibile, adesso molto in forma, che partita sarà secondo te? Sì, sarà una partita ancora più difficile rispetto a questi stasera, una squadra che sta crescendo molto, che sta giocando sempre meglio e niente, ma come sempre dipende tanto da noi, dalla nostra prestazione e sono convinto che possiamo farcela.